L'ATM e la stragrande maggioranza dei suoi dipendenti non possono in alcun modo essere equiparati ad alcune mele marce ora finalmente individuate. Così il direttore generale dell'ATM Giovanni Foti, il commissario speciale Domenico Mann e l'assessore alla mobilità Gaetano Cacciola con una nota congiunta intervengono oggi sul ciclone giudiziario abbattutosi sabato sull'azienda Trasporti con l'arresto di due dipendenti e una sfilza di indagati. Esprimiamo il nostro apprezzamento alle forze dell'ordine per il lavoro svolto hanno precisato Foti, Mann e Cacciola ed in particolare alla Digos con la quale il vertice ATM ha avviato fin dall'autunno scorso un intenso rapporto di collaborazione anche in merito agli incresciosi episodi che hanno colpito in questi giorni l'opinione pubblica. Un lavoro investigativo si legge nella nota apprezzato perché rafforza il significato del cambio di direzione intrapreso dall'amministrazione comunale e dai vertici aziendali dell'ATM per rinnovare e riorganizzare l'azienda, ripristinare le regole ed offrire un servizio di trasporto pubblico degno della nostra città. Vogliamo però ricordare a tutti con grande orgoglio, proseguono Foti, Mann e Cacciola, che l'ATM e la stragrande maggioranza dei suoi dipendenti non possono in alcun modo essere equiparati ad alcune male marce. Ora finalmente individuate, il personale che giorno e notte fa silenziosamente il proprio dovere merita il massimo rispetto e la giusta considerazione dai nostri concittadini. Annunciati poi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti infedeli con l'istituzione di una commissione specifica che valuterà la correttezza delle procedure operative di controllo e le eventuali irresponsabilità amministrative e disciplinari, avviando in parallelo una prima necessaria riorganizzazione delle strutture interessate. Oggi intanto partono gli interrogatori degli 11 soggetti raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal sostituto procuratore Alessia Giorgianni. L'ATM intanto si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari a carico degli arrestati.